Cosa ne penso della società moderna? Diciamo che l'essenza della vita, delle cose, è dato da una legge di attrazione per le cose che vogliamo ma è il come le vogliamo e soprattutto se questo sentimento che vogliamo una volta realizzato a cosa servirà? Quindi questo desiderio che uno ha dentro, pensiamolo già realizzato, cosa realmente ci serve? C'è gente che magari lavora una vita per poi capire che magari il lavoro che faceva non era un lavoro ma era una specie di massacro mentale perché non era attratto da quelle condizioni. L'arte in qualche modo cura molti mali, molti mali inteso come sia fisico, mentale che nel cuore. Questo cuore che tutti citano che poi non è altro che, sembra una poesia, un battito. Un battito che è l'esistenza. Quindi la società moderna è moderna in quanto 2019. Sicuramente le pulsioni appunto di questo battito che è il cuore sono attratte sicuramente dal sesso opposto. Mi spiego meglio, c'è gente che per uscire con una donna spende gli unici 50 euro che ha in tasca. O che ne so, ci sono donne che la danno, fanno del rapporto sessuale a prima sera perché magari può sembrare una facilona e invece magari non fa sesso da, che ne so, due anni. Quindi una prospettiva sulla società moderna che sicuramente abbiamo capito non solo poco, ma tanto. Quindi rispetto per...